ciao benvenuti a tutti cari amici di pennello per le sue carte oggi andiamo a vedere il primo mese del nuovo anno andiamo a studiare gennaio 2023 per tutti i segni zodiacali ovviamente abbiamo visto l'oroscopo per il nuovo anno l'oroscopo 2023 ti lascio il link giù sotto quindi vai a darci un'occhiata se tu non l'avessi ancora visto oggi ci focalizziamo proprio su gennaio lo faremo con l'astrologia come vedi partiremo proprio dall'astrologia ma poi tirerò anche i miei tarocchi andremo a leggere anche le carte e vedremo cosa ci diranno mi raccomando guardati i video per il tuo segno solare ok per il tuo segno zodiacale e quello per il tuo ascendente questo come minimo e poi mettili tutti insieme se conosci anche i segni zodiacali in cui hai la luna e venere ancora meglio avrai un quadro quanto più personale possibile comunque giù in descrizione ti lascio i link all'oroscopo del 2023 al video che ho fatto con le carte e via dicendo ma bando alle ciance che transiti ci sono in gennaio allora quello più proprio l'apoteosi è l'entrata anzi direi il rientro il tornare nel segno dell'ariete di giove giove che già era entrato in ariete durante il 2022 ma poi negli ultimi mesi era tornato indietro era rientrato nel segno dei pesci ecco qui nei giorni insomma nelle ore antecedenti il natale 2022 è rientrato in ariete quindi vedremo gennaio 2023 vede proprio il cammino l'inizio diciamo no del cammino di giove in ariete poi grandi cambiamenti pianeti lenti in gennaio ancora non ci sono però c'è questo giove come dicevamo che cammina in ariete c'è marte in gemelli che era retrogrado e torna diretto vedremo vedremo anche il cammino di marte poi il cambiamento che c'è da dicembre rispetto a dicembre che c'è in gennaio è l'entrata di venere pianeta dell'amore ovviamente non solo sicuramente comunque per quello lei è la più è più conosciuta venere che entra nel segno dell'acquario e poi a fine mese passerà in quello dei pesci comunque gran parte del mese di gennaio venere cammina in in acquario poi c'è mercurio che torna diretto anch'esso ma rimane comunque nel segno del capricorno e poi il sole ovviamente che dal capricorno passa quello passa al segno dell'acquario quindi questi sono i cambiamenti più più che riguarderanno il mese di gennaio vediamo quindi per il tuo segno zodiacale che cosa questi passaggi questi cambiamenti comporteranno ok e dunque vergine per te allora per te un transito molto molto bello che vedo in questo mese di di gennaio è senz'altro la il cammino sia del sole sia di mercurio e per certi versi per i primi giorni per i primi fino al 4 5 di gennaio anche venere nel segno del capricorno segno di terra quindi a te affine segno amico segno molto positivo molto favorevole per te qui sicuramente per te vedo dei di ve urano un toro ma questo lo sappiamo di già plutone ancora in capricorno ti sostiene ti sorregge comunque dicevamo qui nel mese di gennaio senz'altro dei divertimenti delle amicizie qui a maggior ragione nei primi giorni di gennaio in cui c'è anche venere quindi c'è questo trio venere sole e mercurio in capricorno qui dei momenti sicuramente di godimento di godimento di divertimento sempre serioso perché la vergine capricorno insomma non è che si buttano come si dice si buttano di fuori una vergine un capricorno di fuori tu li vedrai mai ecco i segni e poi il tema natale di ognuno di noi si dipinge di vergine però c'ha la luna qua però c'ha marte di là venere qua e lo spiego va bene per i profani quindi io parto dei segni puri il segno della vergine il segno del capricorno che poi viene temperato dall'ascendente ecco perché è importante viene temperato da dove hai venere dove hai marte quindi nessuna vergine è uguale a un'altra nessun capricorno è uguale all'altro ovviamente comunque diciamo di segni di fuori tu li vedrai mai una vergine un capricorno che perdono il controllo ne esiste proprio no sono malati se lo fanno ci hanno un qualche cosa ecco comunque dicevamo quindi un divertimento però sempre comunque controllato però serioso un divertimento serioso non è il divertimento e pofanarieto un gemelli che si divertono rira la vergine del capricorno sempre però qui con questa venere con questa venere con questo sole con questo mercurio sicuramente anche voi passerete dei bei momenti nei mesi di di gennaio magari in compagnia senz'altro qui ci sono delle belle delle belle soddisfazioni quindi ti vedo bere anche del buon vino magari tutti potresti reagire in un agriturismo in un posto insomma capito dove si può degustare qualcosa di questo tipo magari semplicemente qualche pranzo qualche cena da amici cioè ti vedo proprio stare bene divertirti vergine come si ho detto in modo particolare nei primi nei primi giorni non che dopo non ci sia però insomma i primi di gennaio mi garbano di più comunque detto questo cos'altro possiamo dire ecco qui ci sono anche delle notizie delle comunicazioni molto importanti che ti possono che ti possono arrivare senz'altro tu ti potresti dedicare a un hobby un hobby a te piace molto fare un qualcosa che ti piace molto fare che vedo molto 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 produttivo ora vedremo anche i tarocchi che cosa vorranno raccontarci che cosa vorranno aggiungere tu hai sempre questo splendido urano dal toro e ti sostiene che ti fa fare qui c'è proprio il fare quindi c'è una versione che sta macinando terreno che sta magari facendo anche degli investimenti specialmente in casa negli immobili se tu c'hai uno due tre dieci insomma gli immobili e tu hai qui tu potresti fare degli investimenti anche in tal senso o perché proprio tu lo compri o perché sinceramente tu l'arredi tu la modifichi tu la tu la distrutturi e via dicendo va bene ma cos'altro ecco proprio anche il denaro potrebbe essere un argomento positivo per te vergine anche in questo in questo momento poi da maggio poi quando entra gioventoro apriti cielo allora lì lì si va tutta ma ne parleremo più avanti se tu vorrai iscriverti a questo canale e seguirmi con l'entrata di gioventoro lì non ce n'è per nessuno allora lì lavoro denaro investimento ti vedo proprio ecco però insomma anche questo mese anche questo mese di gennaio non non scherza guarda qui qualcuno ti potrebbe non voglio dire donare qualche cosa ma poi tu me lo farà sapere poi tu me lo farà sapere qui c'è anche del denaro che arriva da altre parti che non sono quelle del lavoro poi tu me lo dirai comunque vediamo i tarocchi cosa dicono per la vergine va bene poi se l'ho detto ho messo l'oroscopo 2023 per tutto l'anno guardatelo mi raccomando perché ne vale la pena tu vedi un po l'andamento di tutto l'anno vediamo la vergine vergine per il mese di gennaio gennaio 2023 per il segno zodiacale della vergine gennaio 2023 per il segno zodiacale della vergine vediamo cosa aggiungono i tarocchi a quello che ci ha detto l'astrologia vediamo quante arte allora il re di il re di bastoni il 10 di bastoni 10 di coppe vedi guarda il 6 di bastoni guarda a volte mi spaventano da come fanno comunque il 4 di bastoni e il giudizio ok allora qui guarda qui ce lo vedo proprio mercurio mercurio un capricorno eh se se qui tu arrivi dove tu volevi arrivare vergine allora andiamo andiamo a vedere guarda prima è volato il mese di dicembre quindi qualcosa qui nel mese di dicembre è accaduta e continua ad evolvere ed ampliarsi sempre più perché lei non lo so tu lo sa te andiamo a vedere mese di gennaio 2023 per il segno zodiacale della vergine qui a dicembre tu hai concluso nel senso tu sei arrivata al compimento di qualche cosa al compimento di qualche cosa però qui va ancora ad aumentare ora qui mi fanno vedere il cuore ferito vedi un dolore su qualcosa che non hai più quindi qui c'è effettivamente lo vediamo dai transiti che ci sono ok a partire anche solo ed esclusivamente già solo guardando questo nettuno in pesci qui c'è la mancanza di qualcuno la mancanza di qualcuno di famiglia che sicuramente che sicuramente non c'è però 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 come c'è questo giudizio che mi parla insieme a tutte le altre carte anche di un qualcosa o di un qualcuno non c'era più ma che torna capito qui c'è qualcuno che magari si era allontanato e non hai più visto non hai più sentito che ritorna letteralmente che ritorna dal passato che poi la vergine abbia qualcuno che sta piangendo questo lo so ve lo sto dicendo da tutto l'anno si si vede dall'astrologia ce lo dicono il sottofondo di questa nostalgia c'è nel cuore della vergine questo però qui c'è un po po di roba che arriva meraviglioso allora qui c'è sicuramente a senz'altro la famiglia che avrà un ruolo determinante per la vergine in special modo nel gennaio perché stiamo guardando quello ma per la vergine è importante sempre la la famiglia le radici la casa insomma è molto tradizionalista si può dire la vergine quindi qui molto importante la famiglia gli amici insomma gli affetti gli affetti quelli più cari ma qui vedo anche una grandissima soddisfazione un grandissimo riconoscimento sul lavoro per la vergine qui c'è proprio un successo lavorativo è come se tanta gente arrivasse a te come come si dice come il miele attira le api un qualcosa del qualcosa del genere capito quindi 80 clientela o tante persone insomma ti acclamano che ti guardano che ti seguono che ti incoraggiano che ti adorano che ti aiuti no ti aiutano no i clienti capiti che ti voglio dire ma te tu sei brava mi piace la sua roba il tuo negozio capito secondo dove tu lavori qui ti vedo anche gli amici e l'abbiamo visto dalle stelle ce lo stanno confermando i tarocchi ok e poi i dulcis in fondo ti ho detto qui c'è un qualcosa che già è partito che tu hai iniziato diciamo che è arrivato alla al compimento in dicembre in gennaio prosegue ed aumenta ancora di più questo qualcosa se mi sto se mi sto spiegando qui c'è anche una comunicazione delle comunicazioni quindi vedo il tuo telefono che sicuramente squillerà suonerà parecchio nel mese di gennaio poi insomma con mercurio capricorno trigona il sole per forza ti sono i telefoni ok però mettendo insieme le stelle mettendo insieme quello che mi stanno dicendo qui questi tarocchi qui c'è proprio anche una bella soddisfazione una bella soddisfazione dal lavoro qui sei molto stimata vergine sul lavoro potresti ricevere un premio il lavoro come dicevo che aumenta qui tu arrivi proprio non so anche a un aumento di carriera come si dice a un aumento di quando uno si passa di grado mi venga la parola ok qui posso parlare altri tre giorni ma mi fermo perché non ho più voce a quindi sicuramente e poi se l'ho detto ti vedo fra la gente ti vedo fra la gente qui c'è anche una grande soddisfazione che può arrivare per mano di questo re di bastoni che può essere un padre un marito un figlio se tu c'è una certa età quindi che è già un uomo fatto il re di bastoni è un uomo fatto quindi non è un figlio un bambino che va a scuola capito se tu c'è un figlio di 40 anni allora può essere tuo figlio se no qui si parla di un padre di un capo di lavoro di un compagno di un marito e via dicendo un figlio grande insomma come ti dicevo uomo uomo ok sicuramente questo quindi carte molto belle anche per te ma anche le stelle insomma ci hanno parlato in senso molto molto positivo questo transito di sole venere mercurio in capricorno è assolutamente positivo per te molto terreno cioè ti porta a un risultato a un qualcosa di concreto e di pratico che per te manna vai cielo poi c'è questa spina nel cuore che la vergine c'ha ma lo sappiamo lo sappiamo già ma insomma tutto il resto direi che compensa questo senso insomma questa mancanza va bene vergine guardati l'oroscopo come ti ho detto per l'anno 2023 ti lascio il link qui sotto fammi sapere nei commenti che cosa stai vivendo e noi ci vediamo ovviamente sempre qua al mio prossimo video ciao vergine eccoci qua vi lascio ai miei no eccoci qua